Ten, nine, eight, seven, six, five, quattro, tre, two, one, zero, vuun, vuun, adesso è la luna. Siamo pronti? Oggi sono contento, oggi sono contento perché nadie è venito a darmi pol culo, può essere un gran dia, come sempre. Voi, vi esplico una cosa perché i manager non sono tanto culipogli, a volte e quando pensano, tutto il mondo pensa che sono culipogli, i manager pensano, hanno pensato, hanno pensato a questa cosa che a me mi pare di essere bene, e abbiamo creato un'email, enviatupizza.com, C-O-M, comma. Quindi se vi mandati la foto, la pizza, EW! Cagliarvi, coi! Ho i tre lampisti lì che mi stanno arreglando l'orno. Diciamo che cagliarvi questi tre filipogli, non puoi trovacare fino a parlare. Ciao, minuccio! Ciao, Carmelo! Carmelo, a parte di essere la pizza, arregla l'orno. Lei ha fatto tutto, se lo necessitavi un giorno, chiamarlo, che lui non viene. Quest'email, voi mandate un mini video, maxi video, no, mini video. E io lo voglio mirare. E, è chiaro, non posso provarla. Però, fare la foto, il video, mirando la massa, che tomate ponesse, che chiesa ponesse, tutto, eh? Il video è 30 secondi. Rappido, mettere la foto della massa, la foto del tomate, una cosa rapidita. Perché io, se no me volvois loco, io sto medio loco. Faremo un video, reaccionando a tutta questa m***a e questa pizza che fareis. Vale? E di tutta questa pizza io, elegirei un ganador. Un ganador. Ese ganador lo inviterò in pizzeria, pizzerio per un dia, col puto amo, qui conmigo. Un dia conmigo, un dia no. No, non ti piace. Una sola conmigo, facendo pizza conmigo, qui, in mio ristorante. Però una cosa importante, come questa m***a, io non so come chiamarla, se è m***a virus, coronavirus, chiamarla come pensare a los coconi, deve essere o di Barcelona o di Catalunya. Perché in questo momento, l'ho più avanti, faremo uno per lo demás. Quando mandai l'email, scrivete dove sei, la reazione, però il ganador ve l'ha explicato, deve essere qui, al costato. Qui, al costato di noi. Entendete? Un c***o? Va? In questo video, che è un po' di parte, mi viene a me, lo trovo lì. Come va alla pizzeria del barrio? Aprovechare, io la provo, sicuramente sono tutte buone, perché ho visto che tutto ha un pizzerio, tutto, ma o meno, sono tutte buone. e dice che sicuramente sono tutte buone. Però tranquillo, se, per se a caso, è una pizza di m***a, lo vuoi dire? Io non tengo peno nella lingua. Bueno, già siamo qui, proviamo il ristorante e pizzeria De Angelis, che sta col blan toccando Barcellona. Qui dice che Hospitalet, però, è un pasto di Barcellona. Potremmo dire che è Barcellona, potremmo dire che chiedevi, è Hospitalet. De Angelis, la storia è, sono dosso hermano, Daniele Gianluca, lo proprietario di Antichi Sapori De Angelis. Sono hermano, vengono da Calabria, eh, come io, calabresi, vecchiero, e a me gusta. Ha venuto a Barcellona, sono qui dal 1998. 1998, 99, 2000, 22 anni, giusto? Se vuoi continuare a leggere, 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 noi proviamo la pizza. Vabbiamo a vedere i commenti, colchiamo due positivi e due negativi, come sempre. Vabbiamo a leggere uno positivo. Excelente, caida altissima, e prezzi super bene, 100% recomandato, già vabbiamo bene. Ramiro, secondo, sempre che, come cazzo si è ampia questo, che non vedo una merda. Sempre che visitiamo De Angelis, lo sentimo comendo veramente l'italiano. Lo ravioli, gli gnocchi, carne, pizza, la tarta, la manzana, spettacolare. Buono, positivo, positivo. Ora guardiamo due negativi. Hijo di puto, ti. Vabbiamo a vedere, io devo leggere questa merda. Guardate questa. Io non la leo. La leo, e poi faccio un resumen. Allora, ho leito il commentario, ma è molto lungo, poi faccio un resumen. questa chica ha venuto alle 8 e 20, e voleva entrare. Le ha detto che un camarero bordo, sempre bordo, non so perché. Quando dicono no alla gente, sei bordo. Non lo entendo il perché. Vale. Il resumen è che questa tia ha detto, il camarero ha detto che abriamo alle 9. Vale. Salva a dare una volta, hanno vuelto alle 9, alle 9, alle 10, e stava tutto pieno. Stava tutto pieno, e non aveva sito, questo non lo hanno comito. e gli ha chiesto per la corresponsabile, e ha detto semplicemente, se non tenia riserva, non comia, perché, vale. Quindi io dico, signorita, assido, il ristorante ha le 9, non voglio difenderlo, però, gli dice, posso riservare per le 9, riserva, e ti riserva la messa, quando arriva la 9, tieni la messa. Non lo entendo tutto questo, questo dramma che ha scritto, non lo entendo, però, è lo che hai, tio. Pizze? La pizza? Aspetta, devo dire uno. Non lo puoi sapere, che cosa deve avere. Aspetta, dai, leggo questo. Allora, un altro negativo, non arriviamo a provare la scomita, quindi, perché è buono il negativo? Però il servizio è pessimo, vedo che sarei passato per i commenti, arriviamo alle 20 e 30, andate a cagare. Tipici i clienti che ti vogliono, che vanno e chiedono di essere il re del mondo. Questo non ha comito, perché è la solita cosa, arrivano alle 20 e 30, alle 9, e già sta, stai cansato, già sta. Bueno, i due negativi che ho visto, ho visto che sulla comina non aveva commentario negativo, vale? Aveva commentario negativo per l'orario, per il cameriere che ha detto no. Va, vanno a provare la pizza. Questa è arrivata, il cartone sembra riciclato, e spero che non sia del cartone di basura, o di... Questa è una pizzeria di bario, che chiesti di bario? Non lavorano nemmeno con Globo, Glova e Glivi. Questa, devi andare a buscare la pizza. Praticamente, tu chiami, prendi la pizza, ti dicono il tempo e tu la vas a buscare, e te la come scalienta. Noi abbiamo andato a buscarla, abbiamo andato la moto, in 5.000 abbiamo andato la pizza, abbiamo andato, la pizza stava lì, e abbiamo andato. E qui sta la pizza. Abbiamo andato la prosciutta e funghi, che è una delle classiche, eh? Abbiamo andato una deanduja. L'anduja che è? E' come una sovressata, quella che ha sesso a Menorca, massomeno, piccantissima, tiene un sapore che a me mi vuole loco, chi la prova ripete. E' una anduja con patate e pancetta e mozzarella. Questa è una pizza grumella, chiamolo. Questa è la pizza classica. Come sapete, ogni pizza che abbiamo, abbiamo la prosciutta e funghi, che è la classica, e una delle grumette. Questa è la grumette che ogni pizzeria, che ogni pizzeria si inventa una pizza, che è giusto, hai che la fantasia tiene a schede. Basta che non mi poni spigna. Ora vamo sa... Donde sta il papel? Che mi ho olvido la scuola. Gli assavella che è interessato a chi li poglia, me lo mira qui para dissimulare. E' un palco lo dissimulare, eh! Presentazione lo eccio. Commentario positivo? Eccio. Commentario negativo? Eccio. Presentazione? Bella, dai! Una bella presentazione. Rotonde, eccio a mano. Bella, bella. Bordo alto, non alto, non bajo. Lo gusto. Bien. Esa prosciutta e funghi, si è che hanno subito i funghi, sono più cari. Ponelle 4 più, che sono barrati. Uno, due, tre, cinque, sei, ocho, nueve. Llega a 10, corta il rabo al toro, ponelle 10. Ponelle 2 champignons più, non è che le facciano daño. Va, fa il bravo, dai. Non sia tanto racano. A primera vista, questa per essere delle qualità, vale? Presentazione? Questa qui do un 6. Va bene? Per il mio gusto, e per il gusto del cliente, mancano un pochino di champignons. Io avevo questo 4 mas, però tranquillo, eh. Perché a questa, le doi un occhio, perché mi gusta. Lo tocco questo, la spatata all'orno. Presentazione, eh. Loro la vamo a provare, eh. 6 e 8. 6 più 2, 8. 8 più 6, 14. Ma che cazzo sto dicendo? 8 più 6, 14. 14 divido in 3, 2, 7. 7 e 7, 14. Bien! Bien! 8 e 6, 14, la media. Poi la media deve essere schilipata in media, mica io. Carmelo! Mi è che è arrivato Carmelo? Vieni qua! Ciao, grande amico Carmelo! Pinuccio! Ciao! Ragazzi, buonasera! Ho fatto il tampone, ho fatto il... Il tampone del culo? A me me lo dicevano nel culo, Dio! No! Ha salito la morrana! Ehi don! Ha salito la morrana! Carmelo! Dio, sto facendo un video serio, coño! Ingredienti! Proviamo gli ingredienti! Il camon buono! Lo champignons! Il camon buono! De... De qualità! Lo champignons! Sono fresco! Corretto! E' un... Buon ingrediente! Adesso le doi... A questi ingredienti le doi un occio! Il tomate... E' un tomate... Buono! Con sapore! La mozzarella... E' una mozzarella... Che sa... A mozzarella! Hehehehe! Ti dai! Dai! Proviamo gli ingredienti! Ah! Questa è anduja patata! Patata fantastica! Patata vecchia! Buona! L'anduja... Buona! L'anduja... Ora proviamo... L'anduja che... Per me... E' una migliore... Buona! Buona patata! Buona patata! Patata fatta al orno! Oh! Buona patata! L'anduja... L'anduja... Nota! A ver? Fantastica! Buonissima! Per gli amanti del piccante... Eh! E' un piccante... Ah! Buono! Che non ti chiama la bocca! E' gustoso! Questo ragazzi... Ingredienti... Un 9... Fantastica questa pizza! 8... E' questa 9... 9... 8... 17... Diviso 2... 8 e mezzo! 8 e mezzo! Buona! E' fantastica! La consiglio! Mi pare se vuoi aprire la carta! La vuoi accoppiare... Gianluca e Daniele! Buonissima! Un saluto a Gianluca e Daniele... Io le riparto a lui! Ah! Tu lo conosci? Si! E' abbastanza pieno! E' abbastanza pieno! E' abbastanza pieno! E' abbastanza pieno! Massa! Hai che provare la massa! Vamo sapere la massa! Massa... Elastica! Perfetto! La massa... E' uno spettacolo! Fermentata bene! E anche questa qua... Tendrà un 24 ore... Fermentazione! Poco lievito! Minimo! E' una buona... Fermentazione! Idratazione! Ha un 70% di idratazione! Un 70%! Si! Vuole bene! Ha maturato bene! E' savrosa! Come sal... Sta corretta! E' molta massa... Che... Non è in questo caso... E' molto salata! Io... E' un 8... Un 10... Non lo do a nadie! Solo a me! Non la provo a essere per la misma massa... Perciò... Cambia lo sapore... Però la massa... E' buona! Se nota che hai un... 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 Professionale detrás... Mi allegro per ti... Mi allegro per la tua pizzeria... Bravo! Continua così! Cozione! La cozione... E' corretta! Mirai... Non sta né chiamata né cruda... Sta una cozione... Corretta! E' perfetta! E' sicuramente... Sta all'orno di legna! Sicuramente... Sta all'orno di legna! Una cozione rapida! Dei 2 o 3 minuti! Bene! La cozione... Le doi un 7! Perché le doi un 7? Questa è una mia paranoica... Che tengo da un nino! Perché... Sono cozioni rapide! Dei 2 o 3 minuti! Io prendo cozioni... Dei 3! Questa è una cozione... Un orno... Mol... Mol forte! Alta temperatura! Alta temperatura! 350... 400 grados! E a me mi gustano... A me personalmente! E' una cosa a me personale! Sarò i chilipoglia! Preisco una pizza... Dei 3 o 4 minuti... Dei orneare! Orneare! E per questo... Le do un 7! Solo per questo! Il gusto è vostro! Se vi gusta... Avanti! Savor! Abbiamo questo savor! Sabe a pizza! Ah si? Savor... Ottimo! Il camon se nota! E lo champignon... Molto poco! Le diamo un 8 come savor a questa... Perché... Gli ingredienti che danno... Sono di qualità! Bravi! Ora vamo provare questa! Oh! Tengo un orgasmo! Tio! E' una delle migliori pizze che provai in mia vita! Tio! E' una delle migliori pizze che provai in mia vita! Tio! Se vi gusta il piccante... Io non sono piccante... E... Buongiorno! La tua opinione mi importa un uovo! Hai detto che... Nunca darei un 10! E... Nunca lo darei! A questa pizza le doi un 9! Tio! Non le doi un 10! Per la... Quella cozione! Che mi piace! Però questa è un 9! E il sapore è... Orgasmale! Orgasmale si dice! Orgasmico! Prezzo! Precio! Precio! 11 cents! La prosciutta dei funghi! E la Cummette... L'anduja si chiama... Anduja... 2,50! Lo prezzo... Lo veo... Questo correttissimo! Questo... Se avessi un po' di shampi o di champignone... Estaria corretto! La valorazione generale... il dito del Chilippogna, il dito del Chilippogna, la pondrà a chi abba, a chi abba, ok? e a continuazione la classificazione, seguimi in Twitter e in Instagram e in casa casa 101 101 e per la caglinoe, porca puttana, per la caglinoe